Primo giorno di Spumanti Italia, sempre a Riva del Garda, queste sono le masterclass che convincono e che piacciono perché fanno vedere un po' quello che è la fotografia, fotografano la situazione che c'è in Italia dal punto di vista spumantistico. La masterclass si intitolava Un Vestito Classico proprio per andare a sottolineare come moltissime cantine ma in Italia abbiamo trovato una propria filosofia produttiva, quindi nei vini, nei bicchieri, anche a distanza di decadi come abbiamo avuto l'onore, la fortuna di avere qua, regalino la loro cifra stilistica, quindi la loro idea di metodo classico in areali anche meno noti come ad esempio nella zona del Vermentino o addirittura con la Falanghina abbiamo avuto una bellissima sorpresa e ancora con un uvaggio in greco e malvasia in basilicata. A lato, ma non secondario, invece tante realtà del Piemonte dall'erbaluce di Caluso all'Alta Langa.